Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Che la memoria di Giulia ci motivi a collaborare uniti contro la violenza. L'auspicio di Gino Cecchettin, durante il suo discorso ai funerali della figlia Giulia, vittima di femminicidio, è che la sua morte possa fungere da spinta per il cambiamento. Gino ha condiviso il ricordo della sua amata figlia, descrivendola come una giovane donna straordinaria, allegra e vivace, sempre desiderosa di apprendere. Dopo la prematura perdita della mamma, Giulia ha abbracciato la responsabilità della gestione familiare. Gino ha aggiunto, cara Giulia, è il momento di lasciarti andare. Salutaci la mamma, impareremo a danzare sotto la pioggia. Grazie per questi 22 anni. Alla fine del suo commovente messaggio durante i funerali, un lungo applauso ha accolto il saluto di Gino Cecchettin. Al termine della cerimonia, Gino si è diretto al banco della prima fila, abbracciando e stringendo forte i suoi due figli. Quando il feretro di Giulia è uscito dalla chiesa, le migliaia di persone fuori hanno iniziato a fare rumore, seguendo la richiesta di Elena, la sorella di Giulia, di non osservare un minuto di silenzio, ma di fare rumore in segno di tributo. Il feretro di Giulia raggiungerà la chiesa di Saunara, dove verrà celebrata un'altra messa.